Lo devo ammettere ragazzi, lo devo ammettere, ordinare i top centrocampisti forse è stato più complicato del previsto, sì, sì Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special, ebbene sì, oggi siamo con i top centrocampisti ieri abbiamo fatto top difensori e difensori low cost, l'altro ieri i portieri, vi richiedo anche oggi un massimo supporto in termini di like, commenti qua sotto con la vostra opinione e condivisioni vi ricordo che è ancora possibile iscriversi alla Lega Pubblica, vi lascio il link in descrizione per appunto farvi accesso, iscrivetevi così come vi consiglio di iscrivervi ovviamente al canale, ok? attivate la campanella come sempre, mi raccomando, seguitevi, seguite tutto il percorso del canale durante anche l'anno, non solo in questo periodo estivo poi ci vediamo forse stasera in live, ok? Anche, e pomeriggio ovviamente ci saranno i centrocampisti low cost, episodi da non perdere adesso andiamo a vedere i nomi che avevo preparato e volevo anche ringraziare tutti coloro che stanno comunque in questi giorni anche sostenendo il canale ovviamente stimolati dal fatto del file già compilato, già pronto, che io vi metto qui nella sezione news, ok? questo di qui, analisi dei reparti, per i poi cicciolodi c'è anche quello con i miei obiettivi ma ovviamente quello più importante è quello analisi dei reparti, già compilato se lo volete altrimenti ve lo compilate automaticamente e c'è il file, quello vuoto, disponibile nel drive in descrizione andiamo a vedere il file excel e vediamo, ah ovviamente devo fare le premesse ragazzi ovviamente le indicazioni sono molto personali, le valutazioni sono molto personali tutto è basato su ciò che io mi aspetto per la stagione 2021-2022 non mi sono troppo concentrato su quella passata, ne ho fatto tesoro per capire come si potrebbero comportare i giocatori poi nel futuro e ovviamente i prezzi sono molto indicativi, poi dipende dalla lega a lega, da come si comportano i vostri avversari, dal modalità d'asta e così via, ok? partiamo, dai, andiamo a prendere il file excel eccolo qui, una piccola precisione per quanto riguarda la difesa ragazzi perché ho tolto Hatebor dai primi slot perché a quanto pare si potrebbe operare quindi state un po' attenti l'Atalanta è andata forte su Zappacosta quindi cosa ho fatto? ho messo Mele al posto di Hatebor nel caso dovesse non essere a disposizione Hatebor per l'operazione Mele acquisisce tantissima appetibilità eventualmente dovesse arrivare Zappacosta come alternativa prenderebbe il posto di Hatebor stesso discorso, Donfries dovesse arrivare scala indietro Darmian diciamo qui Donfries magari lo si può mettere tra i top scala anche di Marco, insomma poi eventualmente andrò ad aggiornare il tutto e poi l'altra modifica che ho fatto è l'inserimento del giocatore che mi ero dimenticato, Udogie giocatore molto interessante per quanto riguarda il reparto difensivo detto ciò passiamo ai centrocampisti iniziamo con i top Mkhitaryan in cima insieme a Chiesa di vario leggerissimo ho messo lo stesso prezzo che come vedete qui è un po' più basso ok 12% perché è un po' più basso in che senso? Che mi aspetto che i fatti allenatori lo spingeranno ancora di più al 13-14% io mi ho messo il 12% proprio per limitarvi un pochettino quello è il prezzo che secondo me è in sottocosto che potrebbe appunto essere buono pagarlo un po' di più potrebbe essere un investimento che inizia a essere oneroso il 13-14% inizia a essere un po' costoso per la regola del 72 preferisco Chiesa nel senso che è un giocatore che è costante anche nelle valutazioni a differenza di invece di Mkhitaryan che è più esplosivo magari in alcune giornate non mi veniva il termine e quindi magari ti fa doppietta assist, ti fa sfracelli, addirittura tripletta però a volte ti prende anche il 4,5% il 5% quindi attenzione da questo punto di vista Chiesa è più costante poi ho messo Malinowski, Luis Alberto e Milinkovic questo gruppetto da tre che secondo me farà bene a livello di bonus Malinowski si ha sempre la cosa che potrebbe alternarsi ma più che altro mentre prima era lui al subentrare spesso questo anno credo che sarà lui eventualmente ad uscire cioè partire più spesso titolare questo gli fa portare ancora più bonus magari concentrarli anche un po' nella prima parte di stagione non solo nella seconda come nelle scorse comunque uno dei più appetibili Luis Alberto e Milinkovic due della Lazio tra l'altro vorrei farvi notare quanta Roma e Lazio c'è ci sono nei top incredibile Luis Alberto e Milinkovic sono molto molto appetibili perché ho messo un leggerissimo indice di appetibilità più alto a Luis Alberto perché a me piace un po' di più nel senso che molti pensano guarda è stato arretrato adesso non giocherà più come trequartista vabbè non è che giocava proprio come trequartista trequartista svariava un pochettino e svarierà anche adesso ma ultimamente tira di più quindi occhio a questo aspetto Milinkovic invece come caratteristica particolare in più ha i colpi di testa perché nei calci d'angolo è pericoloso insomma tra l'altro calcia anche le punizioni forse tra tutti i top Milinkovic è quello che tu ci butti i crediti e sai che comunque la stagione positiva te la fa comunque ok? rispetto magari agli altri poi vere tu Zaniolo è che sì due rigoristi su questi tre perché c'è Zaniolo lì? voi direte Carmi uno che viene da tanti infortuni non dovresti metterlo più basso? sì infatti io ho messo il costo più basso nel senso che lo pagherei molto me cioè lo pagherei di meno degli altri top proprio perché non mi dà quella sicurezza a livello fisico ma a livello di potenziale ragazzi secondo me è quello che forse può fare più gol di tutti gli altri top ok? a livello di potenziale perché se sta bene fa un manicomio ragazzi fa un manicomio ma il problema è che c'è questo se se sta bene quindi se riuscite a pagarlo di meno sotto l'8% fate un buon acquisto pagarlo già dall'8% in più inizia a essere un investimento un po' pericoloso io l'ho messo nei top nel senso a livello di rendimento cioè che effettivamente può trascinarvi al fantacalcio può essere un crack speriamo non in quel senso che avete pensato adesso verre tu che si rigoristi verre tu diciamo è rigorista fisso mentre che si rigorista col punto interrogativo nel senso che Ibra se vuole li calcia i calci di rigore quindi se li prende magari lui insomma qualche uno potrebbe non calciarlo lui però certo se ne danno una ventina come l'anno scorso al Milan magari fa sfracelli di nuovo anche quest'anno che si poi Zelisky che poteva essere infilato anche lui nei top lo ammetto ragazzi molti diranno eh Zelisky andava nei top ci potrebbe rientrare tranquillamente lo so però personalmente io lo avrei come secondo slot a me piace averlo come secondo slot Zelisky non come primo poi valutate voi se riuscite a pagarlo sotto l'8% fate un buon acquisto già l'8% mi è sempre un po' altino ok forse mi sono spinto un po' tanto stesso discorso per Soriano Orsolini Pellegrini tre nomi che mi piacciono molto come secondo slot Soriano secondo me è il secondo slot meraviglioso diciamo un secondo slot perfetto porterà anche quest'anno secondo me molti bonus magari lo pagate poco perché molti dicono vabbè è che gli capita ogni anno la stessa stagione poi Orsolini e Pellegrini altri nomi buoni Orsolini viene un po' ad alcuni sottovalutato perché dice dicono ballottaggio ovviamente ragazzi considerate il calciomercato dovesse andare via in un'altra squadra state un po' attenti però dovesse restare lì al Bologna comunque molte volte sarà lui il titolare lì sulla destra l'anno scorso ha fatto sette gol ragazzi cioè un semi top che te fa sette gol personalmente io lo vado a prendere e l'anno scorso ha fatto un po' schifo nel senso che è stato un po' discontinuo magari quest'anno fa ancora meglio quindi non sottovalutate Orsolini Pellegrini è un giocatore completo gioca sulla tre quarti spesso potrebbe fare molto bene se sta bene fisicamente anche lui i bonus saranno frequenti certo dovete stare un po' attenti al costo ok in alcune leghe molto esperte e si gonfierà il suo prezzo poi Pereira Cialanoglu Felipe Anders un altro gruppetto da tre tutti e tre interessanti forse il più costoso potrebbe essere Cialanoglu soprattutto nella vostra lega ci sono diversi interisti Cialanoglu poteva anche metterlo più in alto il problema è la sua discontinuità io non glielo ho scritto discontinuo gli ho messo bonus perché comunque da lui mi aspetto un buon numero di bonus quest'anno magari appunto diversi assist qualche gol potrebbe migliorare da quel punto di vista anche dal punto di vista della costanza ecco vediamo personalmente tra questi tre punterei un po' più superare che invece può essere più costante anche magari l'aspetto dei calci di rigore Cialanoglu dovrebbe essere forse leggero rigorista comunque dell'Inter e Felipe Anderson che non mi dispiace come acquisto l'unica cosa che non è più il Felipe Anderson di una volta insomma non vi aspettate che faccia sfracelli li può fare? sì però non datelo per scontato ecco può portare un buon numero di bonus ma non vi aspettate per forza che faccia il traccinatore della vostra squadra poi altro gruppetto da tre facciamo Diuricic, Barella e Zaccagni tutti e tre portatori di bonus Barella è quello più costante a livello di prestazioni ma è anche quello che prende più cartellini Diuricic ci va vicino a livello però di discontinuità è pericoloso nel senso che sarà più complicato gestirlo a volte si alternerà magari anche contro Reforse infatti potevo inserire l'asterisco a Diuricic quindi state ottenere più complicato da utilizzare rispetto a Barella e Zaccagni e Zaccagni che viene molto sottovalutato quest'anno perché il Verona viene dato già per retrocesso questa cosa però non deve inficiare su Zaccagni e Barak che sono validi i nomi adesso ci arriviamo a Barak prima siamo con Brahim Diaz e Kulusevski che sono validi i nomi per il terzo slot secondo me Kulusevski verrà in alcune leghe sottovalutato se lo portate a casa con 20-20 milioni fate secondo me un buon acquisto con Allegri penso possa fare molto molto bene ok bravo ad utilizzare i giovani anche ad utilizzare i cambi quindi potrebbe sfruttare questo potreste veramente fare un buon gol Brahim Diaz se non arriva un trequartista clamorosamente forte dovrebbe essere lui il titolare sulla trequarti e quindi portare anche lui un buon numero di bonus e soprattutto molto buone prestazioni ok che non fanno mai male come terzo slot non mi dispiace al momento valutate poi in base al mercato Barak buonissimo per Costanza e anche qualche bonus soprattutto perché è pericoloso nelle palle inattive quindi non sottovalutate Barak come terzo slot il leghe numerose già non è niente male ok se lo prendete come quarto slot è di lusso poi Kandreva giocatore che ha sia della sua sia la Costanza che la possibilità di portare tanti bonus soprattutto assist vedremo la titolarità quest'anno se sarà confermata si alternerà forse un po' di più però comunque con le cinque sostituzioni giocherà praticamente sempre e può portare anche un buon numero di bonus poi a proposito attenzione se ho dimenticato qui a mettere l'asterisco a Pessina ovviamente che si alternerà moltissimo lui e Pasal ce li posso valutare insieme perché sono giocatori che faranno molta staffetta nell'Atalanta insieme ad altri giocatori insieme a Malinoski insieme appunto a Muriel insieme anche a Froiler si alterneranno un po' tutti ok lì è in metà campo porteranno buone valutazioni soprattutto Pessina è un giocatore che è più costante che è portatore di bonus mentre Pasalic magari porta più bonus ma è più discontinuo con le valutazioni a volte becca quelle partite orribili che si mangia la qualsiasi ragazzi si prende quel 4 e mezzo 5 poi Damsgaard e Miranchuk giocatori interessanti funambolici Damsgaard viene da un grande europeo però non per questo lo dovrete sovrappagare io mi fermerei intorno al 3% se possibile è un giocatore che comunque le capacità le ha può inventare può portare assist qualche buona prestazione non va aspettate che vi trascini al fantacalcio però Miranchuk che invece può essere sottopagato e può rendere più dell'anno scorso può avere più spazio e magari portare anche un buon numero di bonus ovviamente non sarà semplicissimo da gestire voi lo schierate sia lui questi giocatori come Miranchuk voi lo schierate con copertura alle spalle in panchina poi seconda fascia abbiamo Jankto che è un giocatore anche lui sottovalutato l'anno scorso ha portato un buon numero di gol potrebbe farlo anche quest'anno portatevelo a casa sotto al 3% vi costerà magari anche meno 2% forse lo portate a casa poi Lazovic c'è altro giocatore che ha dalla sua la costanza giocatore che viene sempre sottovalutato magari in alcune lede il suo compitino lo fa può portare anche un buon numero di bonus prendetelo e portatelo a casa come quarto windows slot anche sesto magari dipende dal costo non è assolutamente male McKennie invece è pericoloso nel senso che secondo me apre un costo simile a quello dei semi top ok 20-25 fantamilioni io sinceramente lo pagherei tipo all'intorno al 3% perché è un giocatore che un pochettino si alternerà infatti possiamo mettere anche l'asterisco dovrebbe comunque essere secondo me tra i più titolari del centrocampo Juve tra quelli che ci sono al momento o meglio quello che comunque subentrerà spesso Allegri lo utilizzerà molto però la titolarità certa non c'è è costante nel senso che prende sempre buoni voti però non è un trascinatore fantacalcistico Fabian Ruiz giocatore che è calato tanto dal punto di vista fantacalcistico anche perché si è arretrata la sua posizione in campo quindi può portare qualche bonus è un po' di scontinuo con le pagelle quindi state un po' attenti non spendete troppo per lui Salemakers lui invece magari lo pagate anche meno il 2% o anche sotto magari non neanche ve lo rilanciano però devo dire che come quinto slot quarto e quinto slot da utilizzare all'occorrenza anche numerose male non è poi abbiamo un po' di nomi e sono Brozovic Froiler Locatelli che sono giocatori che non portano una valanca dei bonus Locatelli forse anche Froiler sono quelli più costanti nelle valutazioni poi dipende dove va anche Locatelli state attenti e Brozovic invece è quello più discontinuo ma che può portare più bonus più assist qualche golletto con un tiro fuori aria quindi occhio poi maggiore invece tra questi è quello che viene magari sottovalutato neanche ve lo rilanciano ma ragazzi i numeri sono dalla sua parte soprattutto a livello di voti ma avete visto le pagelle di Maggiore? è un giocatore molto interessante ragazzi non lo sottovalutate ok? non fate questo errore Castrovilli invece a livello di voti è molto discontinuo magari porterà qualche bonus in maniera più frequente più costante speriamo però non credo vi trascinerà il Fandagalce soprattutto avrà sempre dalla sua quel 5 5 e mezzo che ogni tanto vi farà impregare poi Rabbio giocatore è un po' pazzo ok cavallo pazzo chiamato addirittura e anche al Fandagalcio è difficile da gestire è un po' discontinuo magari ti fa la superprestazione nel big match e tu neanche l'hai schierato quindi state attenti in più avrà un po' di ballottaggio non spenderei troppo per lui lo porterei magari tra i panchinari con un reparto però già solido Perifich stesso discorso di Rabbio giocatore è difficile da gestire magari lo schieri e ti prende il 5 non lo schieri e ti porta il bonus in più credo che Di Marco piano piano gli toglierà il posto o comunque sarà magari il dodicesimo uomo e quindi potrebbe diciamo non portare tutte queste belle prestazioni e bonus ok se avete fatto un conto non l'avete fatto ma sono 40 sono 38 perché mancano due nomi che sono messi nelle scommesse e sono Baerami e Aramo sono due nomi molto interessanti per loro non mi spingerei però troppo sotto al 3% va benissimo come acquisto Baerami il trequartista dell'Empoli giocatore che può portare un buon numero di bonus perché ha ottima visione un bellissimo bellissimo tiro da fuori ha fatto impazzire anche il Napoli nella Coppa Italia l'anno scorso e quindi interessante come quarto quinto slot ragazzi soprattutto in leghe numerose poi Aramo giocatore con un gran potenziale gioca in attacco esterno d'attacco potrebbe calciare lui i rigori nel Venezia ok o lui è forte ma dovrebbe essere forse lui magari per Aramo ci saranno forse non lo so più rilanci se pensano al discorso rigori ma in realtà vale un po' di meno perché si potrebbe alternare forse potrebbe metterci anche l'asterisco non lo so in teoria dovrebbe giocare la maggior parte delle partite titolare e potrebbe fare un buon numero di bonus perché ha un ottimo tiro un buon dream insomma è un giocatore niente niente male ragazzi ok quindi se li portate a casa anche a un credito a qualche credito magari i vostri fan allenatori diciamo avversari non li rilanciano meglio portateli a casa detto ciò ragazzi ci vediamo pomeriggio adesso con i lo cost ma ditemi ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di tutti questi nomi che vi ho portato in questo episodio ben 40 ragazzi ok e altri 40 nel pomeriggio ok vi ricordo di invece andare a oltre a lasciare un bel like un commento qua sotto ci vediamo nel pomeriggio intorno alle 15 15 e 30 ok mi raccomando un abbraccio da carmi ciao 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 Grazie.